Musica Edizione della notte del nostro telegiornale, bentrovati in apertura. Torniamo a parlare di maltempo che è tornato di nuovo in primo piano per la perturbazione che sta interessando il Mulise in queste ore. Dopo il violento nubifraggio di ieri, oggi un temporale ha messo in ginocchio l'aria intorno a Trivento, ponte crollato, allagamenti e frane con i vigili del fuoco e i soccorsi impegnati in decine di interventi. La cronaca e le immagini della furia dell'acqua in questo servizio. Ancora un nubifraggio e ancora danni in una zona del Mulise dopo il brusco passaggio di ieri della perturbazione sull'area dell'immediato entroterra, Ururi, Santa Croce di Magliano e Larino, i paesi più colpiti, oggi stesso scenario a Trivento. Il nubifraggio che si è abbattuto nella città Trignina ha provocato allagamenti e danni. Un ponte è crollato, alcune strade interrotte, case, garage, negozi e uffici pubblici allagati. Alcune contrade sono difficili da raggiungere per il fango finito sulle strade. Il temporale ha colpito la zona di Trivento per alcune ore con una tale intensità da mettere in ginocchio un'area, già a forte rischio di dissesto idrogeoleogico che in passato e tuttora deve fare i conti con frane e smottamenti. A causa della violenza della pioggia hanno avuto difficoltà anche i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e i carabinieri che sono dovuti intervenire anche in alcuni comuni della zona. Un ponte in località Rio è crollato mentre la strada provinciale in contrada Montelungo, che collega il paese a Campobasso, è rimasta per diverso tempo interrotta. Isolate anche diverse contrade con i vigili del fuoco all'opera con le idrovore, problemi anche in prossimità della scuola, oggi chiusa in quanto le attività didattiche cominceranno lunedì, dove un'area antistante all'edificio si è allagata. E in questo appartamento, dove dal water è risalita l'acqua allagando tutto il bagno, la foto è stata postata sul profilo Facebook della proprietaria della casa invasa da acqua e fango. Intanto è già cominciata la stima dei danni del passaggio della perturbazione sul Basso Molise, dove nelle campagne, ora allagate, ci si preparava la vendemmia, in alcuni casi l'uva è inservibile. La coda del ciclone in transito sul centro-sud Italia ha colpito oggi Trivento. Secondo le previsioni, il maltempo domani dovrebbe concedere una tregua. Veniamo a parlare adesso dell'apertura delle scuole. Lunedì prossimo, 12 settembre, l'inizio delle lezioni per l'anno accademico 2016-2017. Problemi in diversi comuni, a Disernia il caos regna sovrano. Dopo un nuovo incontro tra l'amministrazione comunale e i genitori degli studenti dell'Andrea Disernia, è tornata in discussione l'apertura regolare della scuola media. Lunedì ci dice tutto in questo servizio Enzo Di Gaetano. Scuola media Andrea Disernia continua il braccio di ferro tra l'amministrazione comunale e i genitori degli studenti. Dopo l'incontro di ieri sera, nuova riunione questa mattina nella sede dell'istituto, presenti insieme a genitori, sindaco e assessori, anche la dirigente di Sanze e responsabile della sicurezza dell'Andrea Disernia, Galasso. Si tratta di un vero e proprio braccio di ferro tra le famiglie che chiedono sicurezza assoluta per i propri figli e l'amministrazione comunale che, come ribadito ieri sera dal sindaco D'Apollonio, non se la sente di chiudere la scuola senza prima una valida giustificazione tecnica. Il sindaco lo ha detto più volte. Agli atti del comune non ci sono documenti che dicono che la scuola sia a rischio. Per questo, nell'attesa che i tecnici diano un risponso definitivo, la scuola lunedì deve riaprire. D'Apollonio afferma che il suo dovere in questo momento è quello di garantire l'apertura dell'anno scolastico e, contestualmente, dare incarico ai tecnici per verificare il reale grado di sicurezza della scuola media. Solo se i tecnici diranno che la scuola non è sicura, partirà l'ordinanza di chiusura. Ma i genitori non ci stanno e chiedono sicurezza assoluta. In sostanza, niente apertura se non ci sono le garanzie. Per questo motivo è stato deciso di convocare una nuova riunione al comune, tra giunta rappresentanti dei genitori e tecnici. In sostanza, meno di 48 ore dall'apertura dell'anno scolastico regna la totale incertezza sulla sorte dell'Andrea di Sernia. È chiaro che le minoranze si sono tuffate a pesce su questa situazione di incertezza e caos. Per Raimondo Fabrizio, l'amministrazione, da Pollonio, si sta dimostrando inadeguata a reggere i sorti del capoluogo e ha rivendicato il fatto che, durante l'amministrazione Melogli, furono realizzate, con dei prefabbricati, ben due scuole sicure per le elementari dell'Ignazio Silone, a San Leucio, e per quelle della San Giovanni Bosco, a San Lazzaro. Rita Formichelli non è da meno, è l'amministrazione da Pollonio che ha creato il caos. Agli atti ci sono le dichiarazioni dell'assessora De Toma e dell'ingegnere Ricchiuti che hanno detto che l'Andrea di Sernia è la scuola più a rischio di tutte. Oggi, da Pollonio, si deve assumere le responsabilità per quelle affermazioni. I genitori sono stati prima messi in allarme e ora si dice loro che la scuola aprirà. Sempre, Raformichelli ha dichiarato che, di fronte all'emergenza, non vale nessun vincolo finanziario. Anzi, il Comune può fare tutto quello che serve. Infine, ha anche rilanciato l'ipotesi di accettare la proposta dell'Inail che offre un mutuo da 5 milioni per l'acquisto dello stabile in costruzione di fronte al supermercato Lidl. Un immobile sicuro e che verrebbe finanziato dallo Stato. Non si capisce, ha concluso Laformichelli, perché questa amministrazione abbia rinunciato a 5 milioni offerti dall'Inail preferendo pagare fitti a privati per sistemazioni inadeguate. In conclusione, per sapere se i ragazzi dell'Andrea di Sernia andranno a scuola e in che scuola, bisogna ancora attendere. E lunedì parte l'anno scolastico. Intanto, dopo aver firmato le ordinanze sulla primaria di Via D'Amato, il sindaco di Campobasso Battista, continuiamo a parlare della situazione scuola, ha firmato quella sulla scuola di Via Crespi. Con il documento sottoscritto questa mattina diventa ufficiale che le attività didattiche si svolgeranno a partire da lunedì al mattino nelle aule dell'Istituto Colozzi e nella nuova struttura di Via Sant'Antonio dei Lazzari che aprirà come previsto lunedì. Sritterà invece di qualche giorno l'inizio dell'anno scolastico a Capracotta. La decisione è stata assunta dal sindaco Candido Paglione in seguito alle risultanze dello studio sulla vulnerabilità sismica eseguito sull'edificio di Via Nicola a Falconi. I dati in nostro possesso parlano di un indice di pericolosità molto elevato che non offre garanzie di sicurezza in caso di terremoto. ha detto Paglione, domani alle 17 è in programma un'assemblea pubblica in comune per affrontare il problema. E a poche ore dalla ripresa delle attività didattiche la Cigella torna sul tema della sicurezza degli edifici scolastici, un tema che per una regione ad elevato rischio sismico come il Molise deve essere una priorità per il sindacato, secondo cui occorrono interventi organici e non iniziative estemporanee per affrontare l'emergenza. Anna Maria Di Matteo L'edilizia scolastica deve essere una priorità alla vigilia della ripresa delle attività didattiche. La Cigella torna a lanciare l'allarme, a chiedere aule sicure per tutti gli studenti della regione. È un problema che riguarda tutto il paese, ma che in regioni come il Molise ad elevato rischio sismico diventa un'emergenza da affrontare in maniera organica e definitiva, senza interventi tampone o soluzioni estemporanee. Già l'indomani del terremoto di San Giuliano, la CGL aveva sollecitato la costituzione di un tavolo permanente di coordinamento a livello regionale tra tutti i soggetti istituzionali interessati. Proposta reiterata anche a gennaio scorso, in seguito alla scossa di terremoto che ha fatto ripiombare l'intera regione nella paura. E a poche ore dal nuovo anno scolastico si ripropone puntuale il problema della sicurezza degli edifici. Isernia, Campobasso, Matrice, Capracotta, solo per citare alcuni dei comuni che stanno affrontando l'emergenza. Quello che si sta verificando Isernia e Campobasso è ingiustificabile, denuncia il segretario regionale, Pino La Fratta, e richiama responsabilità ben precise le amministrazioni regionali, provinciali e comunali. Tra i tanti, prosegue il sindacato, il caso della primaria di Via D'Amato a Campobasso è emblematico, una scuola ristrutturata con ben 400 mila euro nel 2012 viene chiusa a soli dieci giorni dall'inizio delle lezioni. Il Comitato dei Genitori nel frattempo aveva rifiutato la proposta del Comune di mandare i bambini all'Enrico Dovidio di Via Roma, scuola che lo scorso anno aveva ospitato gli alunni di Via Crispi. Se quelle aule non sono sicure per gli alunni della Guerrizio, perché dovrebbero esserlo per i bambini della Dovidio? È la domanda che pone la Fratta. La vicenda in assenza di una programmazione regionale dell'offerta formativa e di un piano di dimensionamento scolastico rischia di degenerare e già sta creando un'allarme sociale tra tutti gli interessati. Nel frattempo, fa sapere il sindacato, sono circa 90 le richieste di nulla a osta ricevute dalla Guerrizio, con il rischio che a breve l'intera scuola scompaia, fagocitata da altri istituti che ad oggi non hanno organico a sufficienza nemmeno per i loro iscritti. L'istruzione non è una concessione, ma un diritto costituzionale da garantire agli studenti e il monito della CGL. Se non saranno fornite le dovute risposte, valuteremo insieme ai lavoratori e ai genitori le opportune azioni di mobilitazione. Cambiamo argomento. Si sono svolti questa mattina i funerali di Cirociocca, il ventenne Campobassano originario di Riccia, che ha perso la vita in Francia, a Rouen, dove era all'Erasmus. Una vicenda che ha sconvolto tutti in Molise, frequentava l'Università Portici in tanti parenti e soprattutto amici. Hanno voluto partecipare alla cerimonia funebre nella chiesa di San Pietro Apostolo. A Campobasso i familiari di Ciro non hanno voluto telecamere all'interno della chiesa e noi ovviamente rispettiamo il loro dolore, la loro volontà e ci uniamo al Cordoglio. E in tanti hanno voluto dare l'ultimo saluto oggi anche ad Antonio Gasbarro, il sedicenne di San Martino in Pensilis, morto giovedì all'ospedale di Foggia per le ferite riportate in seguito ad una caduta dallo scooter. Una tragedia che ha sconvolto San Martino, vedete le foto, dove oggi il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, negozi chiuse e bandiera a mezz'asta durante la celebrazione dei funerali. La barra bianca è arrivata in chiesa dietro al carro dei giovanotti a seguire un lungo corteo in uno struggente silenzio. La comunità si è stretta in un forte abbraccio ai genitori che in un momento di estremo dolore sono stati capaci di un gesto di grande umanità donando gli organi del loro figlio. Voltiamo ancora pagina. Il centro-destra riparte da Termoli, dove Michele Iori e Ulisse Di Giacomo hanno presentato il nuovo gruppo consigliare, nuovo centro-destra insieme per il Molise, un'occasione per rilanciare e lanciare l'appello all'unità della coalizione in vista delle prossime regionali. Ma sentiamo Manuela Iorio. Il centro-destra riparte da Termoli e lo fa con la formazione in consiglio comunale di un nuovo gruppo consigliare, fusione di un partito, nuovo centro-destra appunto, e di un movimento civico insieme per il Molise, quello lanciato da Michele Iorio. Il gruppo guidato da Antonio Di Brino sarà aperto a nuove adesioni, non solo all'interno dell'assise, aperto soprattutto ai cittadini che vogliono dare il loro contributo. Il centro-destra è stata un'invenzione di Berlusconi con bossi e fini. Oggi è impossibile riproporre quel modello. È necessaria invece un'area di persone moderate, che lavorano per il bene comune, ha spiegato Di Brino. Riteniamo che sia arrivato il momento, insomma, di non rimanere chiusi all'interno, insomma, dei partiti, ma aprirsi a quella che è la società, il mondo civico, la cittadinanza. Insomma, noi abbiamo come gruppo consigliare avvertito l'esigenza di persone, di giovani che si avvicinano alle nostre iniziative, che le condividono, ma che in qualche modo trovano resistenza rispetto a un'appartenenza partitica. La neoformazione in Consiglio a Termoli è anche l'opportunità per i due massimi esponenti del centro-destra regionale Michele Iori e Ulisse di Giacomo di provare a rimettere insieme le diverse anime della coalizione. Non sono mancate e stoccate a Forza Italia, un partito che al momento non ha una sede in regione, che ha un commissario di Benevento e dove diversi esponenti si prestano a trasversalismi che poco hanno a che fare con l'interesse pubblico, hanno detto. L'appello proprio per questo è quello di ritrovare l'unità e Termoli, secondo Di Giacomo, può essere un laboratorio da seguire anche in altri centri. Abbiamo inteso mettere assieme le esperienze di un movimento civico che è insieme per il Molise, che ha avuto un successo strepitoso alle ultime elezioni comunali di Sernia, vincendo con il proprio candidato sindaco e che rappresenta come movimento civico quelle che sono le istanze, i fabbisogni della gente, del territorio, con i contenuti e l'esperienza di un partito nazionale qual è il nuovo centrodestra. Credo che questo sia innanzitutto una semplificazione del quadro politico di cui hanno bisogno tutti anche questa regione, ma possa essere un piccolo seme, un piccolo germoglio per ricreare le condizioni di una forte coalizione di centrodestra. Quello d'insieme per il Molise è un contenitore civico da cui partire, aperto a tutti, ha spiegato Michele Iorio. C'è un rinnovamento nei metodi, nei programmi e non ho dato vita a questo movimento perché voglio essere io a tutti i costi il candidato presidente, ci ha tenuto a chiarire Iorio. È un'iniziativa per includere e non per escludere qualcuno. Un appello all'unità dunque per arrivare preparati alle prossime elezioni e riprendersi il governo della regione. Una regione che sotto la guida del centro-sinistra, secondo Iorio e Di Giacomo, ha fallito su tutti gli aspetti, dalla gamma allo zuccherificio, passando per la sanità. Critica alla gestione frattura dunque, ma anche al metodo frattura, quell'atteggiamento, cioè discriminatorio, che il governatore adotta verso chi non fa parte del cerchio magico. Non ho mai visto in una regione tanta gente che ha paura di parlare perché se solo osa dire che è, non diciamo amico di Iorio perché viene messo proprio al bando, ma se è orientato verso il centro-destra, viene immediatamente discriminato, licenziato, non riassunto e in qualche modo vessato. Questo riguarda sia la classe imprenditoriale che anche i giovani, e questo mi dispiace ancora di più. Non si è mai verificato, nemmeno con il centro-sinistra precedente a quello di frattura. C'è un nuovo modello, che è un modello che va respinto, combattuto, perché io credo che sia deleterio per la dignità delle persone. Ed ora una precisazione con riferimento ad un articolo del giornale del Molise del 9 settembre. Al servizio di Telemolise, la presidenza del Consiglio regionale ha voluto fare una rettifica e precisare alcuni punti. Non risulta vero, ha scritto in una nota, che il Dipartimento di Bilancio e Risorse Pubbliche abbia inteso con la determina dirigenziale 4163 del 7 settembre 2016 liquidare in anticipo le indennità dei consiglieri regionali di settembre ed ottobre. Il trasferimento di risorse economiche ha continuato dall'Aggiunta al Consiglio, che potrebbe avvenire in un'unica soluzione ad inizio anno e che per il quarto bimestre 2016 è di 983.333,34 euro, afferisce alla spesa corrente di funzionamento non solo mensilità dei consiglieri. Se periodicamente l'Aggiunta regionale non erogasse le somme necessarie, la tesoreria del Consiglio regionale dovrebbe anticiparle con un aggravio per interessi passivi a danno del bilancio annuale. In merito poi all'importo dell'indenità per i consiglieri regionali, la Presidenza di Palazzo Daimu ha precisato ancora che le indennità per i membri dell'Assemblea Legislativa italiana sono state stabilite dalla Conferenza Stato-Regioni, la quale ha fissato un tetto massimo consentito senza distinzione di numero di abitanti e distinzione territoriale, considerando che i consiglieri regionali italiani hanno le identiche funzioni e le medesime responsabilità giuridico-politiche. Quanto alle iniziative di solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto, viene ribadito che non è vero che il Consiglio non abbia messo in atto delle azioni a tal fine, in quanto nella seduta di martedì il Presidente Cotugno ha informato l'Assemblea che la conferenza plenare dei Presidenti dei Consigli regionale ha deciso di raccogliere da parte di tutte le assemblee legislative italiane la cifra simbolica di un milione di euro da devolvere in aiuti ai terremotati. Le modalità e i tempi per l'attuazione di tale iniziativa, ha concluso la nota di rettifica, saranno rese note nei prossimi giorni. E fino al 30 settembre continua la raccolta firme della CGL. A sostegno della proposta di legge per la Carta dei diritti universali del lavoro, si può fermare nelle sedi CGL, nelle sedi dei comuni di residenza e presso i banchetti che saranno allestiti nei prossimi giorni a Campobasso, Isernia e Termoli, Sentia. Dopo aver raccolto mila di firme molise a sostegno dei tre requisiti referendari sull'abolizione dei voucher, il ripristino dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e la responsabilità solidale del committente negli appalti, continua fino al 30 settembre la raccolta delle firme in merito alla legge di iniziativa popolare che rimette al centro il tema del lavoro e dei suoi diritti. Il tema per la CGL deve tornare ad essere la priorità assoluta nell'agenda politica nazionale e regionale. Gli ultimi dati allarmanti forniti dall'Inps in merito all'occupazione e alla sua qualità pongono infiniti interrogativi sul futuro socio-economico dell'Italia. Per questo in Italia e nel Molise non si crea lavoro. Quel poco che c'è rimane assoggettato a regole più flessibili, sia normativamente che economicamente. Ed è così, sostiene ancora il sindacato, che si crea il dumping sociale con l'impennata dei voucher. La politica non si interroga sullo stato di salute della propria gente, non pone il tema della qualità del lavoro e dei diritti dei lavoratori. La regola meno stato più mercato ha modificato strutturalmente i punti cardine della Costituzione, secondo la CGL. I diritti fondamentali come il lavoro dignitoso, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto alla mobilità, ad esempio, sono sempre diritti più mancati o a pagamento, ricreando quelle condizioni di disparità sociale che l'Italia ha ben vissuto in passato. Bisogna, aggiunge il sindacato, intervenire sulla riforma pensionistica, la cosiddetta legge Fornero, che impedisce ed innalza ulteriormente l'età e a chi ha lavorato una vita di andare in pensione e blocca contestualmente la possibilità di assunzione per i giovani. La CGL continua a sostenere che occorra riprendere dal basso un'iniziativa forte che vede i lavoratori e i cittadini partecipi di una nuova stagione di diritti. La proposta di legge denominata Carta dei diritti universali del lavoro vuole essere il punto di ripartenza per combattere la deriva del governo ed unificare il mondo del lavoro e quello autonomo. Cultura d'impresa nei luoghi d'arti del Molise è l'iniziativa della Confcommercio regionale che incontra le aziende e partirà di sé nel 15 settembre. Sono previsti dieci incontri sull'intero territorio. Sentiamo Tonino Danese. Convegni e piccoli corsi su argomenti come start-up, tecniche di vendita, internazionalizzazione, azioni di web marketing e social media marketing è quanto ha organizzato e pianificato la Confcommercio Molise sull'intero territorio regionale, ribadendo la propria presenza attraverso incontri con imprenditori e aziende. Dieci gli appuntamenti del tour cultura d'impresa nei luoghi d'arte del Molise. A Campobasso, Isernia, Termoli, Venafro, Larino, Riccia, Montenero di Bisaccia, Trivento, Frosolone e Agnone. Un tour, quello della Confcommercio, che partirà il 15 settembre nella Sala Museo Rauce Isernia e si concluderà il 15 dicembre nella Galleria Civica di Termoli. L'obiettivo dell'iniziativa è stato spiegato e coniugare attività di promozione e comunicazione, collegando innovazione e tradizione. Il tutto facendo collaborare, in modo strategico, esperti di marketing e business plan e docenti universitari. Irene Tartaglia, direttore regionale della Confcommercio, ha spiegato come Isernia, scelta quale luogo di partenza dell'iniziativa, è operativa la nuova sede della Confederazione di Categoria in via 24 maggio. Il tour cultura d'impresa nei luoghi d'arte del Molise, ha detto Tartaglia, è un'iniziativa di marketing associativo per costruire insieme un ambiente ottimale per la crescita della nostra associazione e del nostro settore nell'intera regione, che ha concluso ci consente di conoscere meglio gli associati, le loro aspettative e raccoglierne i problemi in questo momento delicatissimo. Ed ora parliamo dell'incontro all'assessorato regionale alle politiche agricole sulla vicenda forestale e sul pagamento delle mensilità arretrate. L'assessore Facciolla ha detto ai rappresentanti sindacali che la regione è in gatto di prevedere che le giornate lavorative restanti potranno essere completate entro il 15 dicembre. C'è la possibilità concreta, emerso dal tavolo, di riorganizzare il sistema di contrattualizzazione dei forestali, garantendo loro un contratto triennale anziché annuale fissato per il 15 settembre. Un altro incontro tra l'assessore e i rappresentanti dei lavoratori, relativo sempre al tema del pagamento delle aspettanze arretrate. Intanto da lunedì hanno fatto sapere dall'assessorato gli operai forestali saranno impegnati per altre 15 giornate lavorative in uno dei cantieri in provincia di Isernia. E ai di Isernia, 73esimo anniversario dei bombardamenti che distussero la città nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale, centinaia le vittime, cerimonie commemorative nel capologo di provincia e ce ne parla Sergio Di Vincenzo. Isernia non dimentica le vittime del bombardamento di 73 anni fa. Lo si capisce da questo cartello affisso da un commerciante e dalle numerose presenze registrate durante la cerimonia commemorativa, nonostante la pioggia battente. Dopo la messa celebrata in cattedrale, la rituale deposizione di una corona ai piedi del monumento dedicato alla tragedia del 10 settembre, poi una cerimonia analoga al sacrario all'interno del Museo Civico, ricavato in uno degli edifici scampati per miracolo alla furia delle bombe. Per il sindaco Giacomo D'Apollonio è doveroso ricordare questa giornata e per questo anche le scuole dovrebbero fare la propria parte. Chiederò anche nelle scuole che questa cosa venga citata, che si ripercorra questo momento così tragico della nostra città. Ci sono ancora i testimoni di quell'epoca che possono, dalle loro parole commoventi, strazianti, si possono capire i momenti difficili che questa nostra città ha attraversato. Io penso che molti l'abbiano capita. Molti giovani però vedo che non lo sanno neanche oppure sono poco informati e per questo motivo non riescono a riflettere, a fare una riflessione su questi eventi che hanno colpito la nostra terra. Durante l'omelia il Vescovo Monsignor Camillo Cibotti ha evocato un'immagine significativa, quella degli sernini che, convinti che la guerra fosse ormai finita, sventolavano i fazzoletti per salutare gli aerei degli alleati. Pensavo a queste realtà che ogni giorno vediamo in tv e tanta gente innocente, bambini, che stanno giocando e che non curanti vengono colpiti così da bombe o da una sventagliata di mitraglia. La cosa più bella però è da, come dire, vedere dopo. Sarebbe molto bello che questo gesto fosse visto come simbolo di un saluto finalmente, un addio alle armi. Nel centro storico non solo si vedono ancora i segni delle bombe, ma si incontrano anche i testimoni diretti di quel giorno terribile. Al mercato, davanti alla farmacia, io, mia madre, mia sorella, andando al mercato, meno male, alle dieci e mezza eravamo finiti per essere le dieci e stavamo a casa. Se no, saremmo morti tutti e quattro. Invece questa casa è stata risparmiata dalle bombe. Sì, sì, è stata venuta per terra. Io, mia sorella e mamma siamo iniziati a tre mesi all'ospedale di Campobassi. Due autovetture sono state danneggiate la notte scorsa ad Isernia in via occidentale. Vedete le foto, i danni in seguito ad un urto da parte di un'altra autovettura il cui conducente si è allontanato ed è ricercato dalla polizia. I proprietari delle auto rivolgono anche un appello, cercano persone che hanno eventualmente assistito al fatto e che possano fornire elementi utili per rintracciare il responsabile. quattro giorni di festa a Castel Mauro in onore della Madonna della Salute fedeli arrivati anche da fuori regione dall'estero hanno partecipato alle numerose iniziative organizzate in paese per rinnovare una tradizione molto sentita dalla comunità. Fabrizio Chionero. Sono migliaia i pellegrini che ogni anno raggiungono il santuario della Madonna della Salute a Castel Mauro dal 7 al 10 settembre quattro giorni di festa in paese dove rientrano numerose famiglie da fuori regione e dall'estero Herstal in Belgio centri dell'Australia e molti altri una devozione che ha superato i confini nazionali e richiama in tanti nel comune di origine suggestiva la fiaccolata sotto le stelle che si è snodata lungo la strada che collega il santuario a Castel Mauro persone di ogni età hanno accompagnato in preghiera la statua della Vergine della Salute a metà strada si è rinnovato il grande spettacolo di fuochi d'artificio un paese illuminato da luci e colori per salutare l'inizio dei festeggiamenti in serata la messa celebrata dal vescovo della diocesi di Termolilarino Gianfranco De Luca con il parroco Antonino Daolerio e gli altri sacerdoti della zona singolare l'asta che si svolge la mattina dell'8 settembre le squadre dei giovani e degli anziani si sfidano a chi offre di più per avere l'onore di portare in processione la Madonna della Salute un'antica statua di cartapesta interessata di recente da un importante intervento di restauro sostenuto dai fedeli che non fanno mai mancare il loro contributo per ogni iniziativa quest'anno sono stati giovani ad aggiudicarsi l'asta e in tanti hanno partecipato alle processioni nella zona Fortarella e Quarto di Fuori anche le donne hanno organizzato una colletta comunitaria in 136 si sono autotassate mettendo da parte 10 euro al mese per la festa il programma del comitato ha proposto i concerti di Michele Zarrillo apprezzato cantautore e chitarrista con il suo unice a mondo tour e della banda città di Conversano paese affollato l'emozione di chi rientra dall'estero per la festa più amata ritorniamo ogni anno quasi oramai è una tradizione per noi che non ci possiamo mai scordare dall'Australia a Castel Mauro sì solamente per 3-4 giorni per un po' di festa a incontrare tanti altri compaesani e altri amici dei tempi fa significa tutto perché questa festa ci è rimasta del cuore quello che tiene di Castel Mauro veramente uniti indipendentemente da dove viviamo anzi anzi per tutte le diversità che si possono trovare a Castel Mauro ma quando si parla delle feste settembrine è un qualche cosa che si dimentica tutto e si fa tutto affinché questa festa venga riuscita nel modo migliore possibile un appuntamento prima di chiudere a Riccia per il momento clou domani della festa dell'uva la sfilata dei carri allegorici che si svolgerà come da tradizione nella seconda domenica di settembre quindi domani pomeriggio l'inizio alle ore 15 ed è tutto per questa edizione della notte del nostro telegiornale che andrà in replica fino al nostro Tg del mattino di domani con la rassegna stampa alle ore 8.30 a voi tutti grazie per la cortesia attenzione buonanotte grazie a tutti grazie a tutti